Invece al mondo K-Pop Perché adesso abbiamo la numero 23 Sonia che porta Joy Da Red Ballet Sì, 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 sì. Asturiamo grazie a tutti che brava complimenti ma lo sai chi mi ricorda lei non so se avete presentato ariana grande cioè questo rosso cuoco di capelli passione, bucciosità troppo carina io sono ipnotizzata nei capelli sono bellissimi